ciao che c'è niente che c'è ma quando mai allora ciao ciao che cosa abbiamo visto 222 è il sottotitolo non me lo ricordo vabbè di che parla questo lo devi spiegare tu perché già sto azzeccato molto azzeccato di una cosa che si ripete sempre cioè dai racconta e dai si descrittiva vabbè se non ha senso vai di uno dai dylan chiama che lavora nella torre di controllo due di a new york a new york e praticamente questo meno male che esiste il taglio in questo preciso momento dovete sapere che ho tagliato quello che ha detto lei prima perché ha fatto uno spoiler ripetiamo ripeti senza fare senza fare spoiler questo qui rivive porca puttana la miseria questa è la seconda volta che taglio il video perché ha fatto per la seconda volta lo spoiler dicendovi il finale nella prima frase della descrizione di questo video terzo tentativo ripeti tu allora almeno spunto almeno terzo tentativo comunque questo qua lavora in questa attore di controllo e fa atterrare gli aerei ok e li fa decollare ok una volta sbaglia comunque e sta per commettere una cosa veramente brutta diciamo cosa e comunque contro una ragazza ok bella con gli occhi azzurri bella da lei che si chiama sara va bene la sinossi comunque contro questa ragazza e si innamorano si innamorano e niente questa ragazza però lavora non ce la posso fare non devi raccontare va bene questo film parla di un tipo che tiene i problemi che non si sa per quale motivo si trova a rivivere sempre lo stesso momento tutti i santi giorni ovviamente non mi posso dire il motivo per il quale questo vive sempre questo questo susseguirsi costante di diciamo di situazioni e alla fine del film si scoprirà ovviamente perché non ve lo sto a dire ci ha provato lei ben quattro volte grazie al taglio dei video voi non lo sapete ma insomma impressioni cioè perché veramente se non vi faccio lo spoiler allora mi ha messo un po d'ansia a me tutto il film ma proprio ansia ansia seria mi ha azzeccato il cervello a me mi ha messo ansia tutto il film si pure a me dall'inizio alla fine e anche e anche le cose diciamo positive e diciamo c'è diciamo gli incontri amorosi insomma mi hanno messo ansia mi hanno messo molta ansia comunque mi ha messo anche a me tantissimissima ansia e non mi è piaciuto comunque non è che non mi è piaciuto però troppo ansia è bello lui figa lei bravi a tu e insisti perché la devi smettere ma tu l'hai detto anche ma io non lo posso dire no tu e dillo no comunque insomma un bel caster sapeva tra l'altro lui mi piaceva come recitava sono partito che mi stava no lei no lei no lei no lui è bravo lo consiglieresti come film da vedere se volete se avete voglia di far venire molta ansia no io non lo consiglierei invece no sinceramente no perché sinceramente si è bello fin quando è gratis infatti quando io in genere tendo sempre a non vedere i film quelli lì che hanno appunto la trama che si ripete sempre la stessa macchiata ogni volta perché è facilissimo cadere diciamo proprio nella ripetitività troppo ripetitivo e quindi niente mi è piaciuto lui mi è e poi devo raccontare una cosa che io vedo alla fine devo condividerla con voi allora io sono innamorato di questa ragazza e quindi mettetevi nei miei panni no c'è ci sta ovviamente l'amore e tanta dolcezza per me lei mi esprime dolcezza io mi giro nel momento diciamo quasi finale del film e vedo lei con una faccia disperata con due cose sotto agli occhi tanti che sta così che combatteva con tutta la sua forza contro la lacrima ovviamente non ho potuto non ridere ci ha fatto alle risate ho messo chiatto da ridere e tu così non sei sensibile vabbè vabbè non lo so su si va bene comunque vogliamo dare questo voto si diamo questo voto e perché anche perché si ok ok sei pronto si vai 1 2 3 6 5 ma come allora io non mi trovo con questa cosa cioè pare sempre che a me è piaciuto più di te eppure io do sempre il voto più basso ma come è questa cosa è perché tu sei sei cattivella sei esigente e perché voi mi fai senti in colpa no ma perché perché per me io che sono ingrippato con i video con i film e tutto mi piaceva no mi piaceva mi piacevano gli effetti speciali e tutto c'è infatti lo volevo dire prima mente è rotto non è una cosa capito diciamo ecco questo non era banale che fai non era banale diciamo cioè all'interno del film con una trama del genere con una trama del genere non c'era per forza bisogno di fare effetti speciali del genere invece era figo però ansia si ansia ansia no vabbè comunque diciamo come voto di coppia diciamo un 5 no 5 5 e mezzo facciamo 5 e mezzo va bene ma non vedetelo ma non ha senso nel senso se lo volete vedere mi dite la vostra ci dite la vostra andiamo a mangiare ma sono fa vabbè chiudi tu chiudi tu dai vai insieme 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 uno due tre Ciao!